Noi non stiamo preparando un'ottica vispesa, noi stiamo preparando un'ottica siena perché è una partita come vanno preparate tutte perché sennò rischeremo di dare un messaggio sbagliato a tutti quanti e soprattutto di sbagliare e di non portare in campo quella che deve essere la nostra mentalità. Noi è un impegno a tutti gli effetti e noi giocheremo con lo stesso tipo di mentalità che avete visto queste prime uscite, per noi non esistono né amichevoli né partite di seconda importanza o di prioritaria importanza. Tutte le partite hanno la stessa valenza, chi giocherà e per chi giocherà è un'opportunità importante per farsi vedere e soprattutto per dare un senso ai sacrifici e agli sforzi che sta facendo dall'inizio della stagione. Per quanto riguarda i giocatori che potranno essere utilizzati è chiaro che le mie valutazioni sono fatte e saranno figlie della condizione di ognuno di loro perché tre partite in una settimana per forza di cose se le vogliamo tenere in intensità alte è impossibile riuscire a farle con gli stessi interpreti e quindi sarà per me la formazione migliore per provare a battere il sieno. Chiaramente noi abbiamo valutato lo sforzo che c'è stato nell'impegno di domenica con il Modena perché ci sono anche dei calciatori che hanno avuto uno sforzo veramente notevole sia come eventi di potenza ma anche come volume di gioco ed è chiaro che sollecitarli in questo momento della stagione a una partita ogni tre giorni dopo che non hanno ancora metabolizzato le scorie della partita precedente rischierei poi di fargli arrivare degli infortuni che assolutamente è un rischio che non dobbiamo prendere. Detto questo ci saranno anche coloro che invece hanno assorbito i carichi della partita di Modena e che quindi saranno riproposti in campo tranquillamente ma proprio perché noi non sdoppiamo l'avversario per me è una partita importante e voglio vedere da parte di tutto il massimo impegno anche perché coloro che domani magari sbaglieranno la prestazione oppure non saranno calati mentalmente su quello che è il nostro impegno è chiaro che nelle mie gerarchie resteranno dietro. Quindi per i calciatori è una grande opportunità per quelli che hanno avuto meno minutaggio. Gli altri devono far vedere la stessa mentalità che hanno mostrato nei tre impegni di campionato.